E' arrivata la tanto attese ed ultimamente acclamata dama bianca che sta scennendo dalle prime luci dell'alba anche nelle zone a bassa quota del Molise. Resta sempre uno spettacolo per gli occhi, il paesaggio imbiancato che propongono le colline e le montagne che caratterizzano il territorio. Questa volta la coltre bianca è arrivata in prossimità dell'Epifania che, come sostiene il detto, tutte le feste porta via. Seppur sia lungo l'ultimo weekend di queste festività natalizie da trascorrere in famiglia, lietati dal tepore del camino, per i più appassionati invece è arrivato il tanto atteso momento di sci e scarponi per scivolare sulla neve nelle località sciistiche preferite. Per chi è costretto a viaggiare per lavoro invece iniziano i primi drammi dovuti ad ipotetici ritardi e alle corse che caratterizzano il tran-tran quotidiano. Ma questa volta pare che nessuno si sia fatto trovare impreparato. Con largo anticipo, infatti, le previsioni meteo parlavano di un estremo calo di temperature e di accumuli di neve pari anche a 20-25 cm sulla costa. I comuni delle due province, Campobasso e Disernia, dichiarano che la macchina organizzativa per far fronte all'emergenza è già stata avviata. Si raccomanda comunque un uso moderato dei mezzi privati e si chiede ai cittadini di non parcheggiare, di non abbandonare le auto lungo i marciapiedi e le strade per facilitare le operazioni di pulizia e di spargimento del sale. Per segnalare la situazione di emergenza, laddove si richieda la necessità di liberare con estrema urgenza e necessità accessi alle abitazioni, la SEA propone i due numeri 0874 62286 oppure 800993380. Intanto, la protezione civile dirama il bollettino meteo. Gli esperti dicono che la colonnina di mercurio scenderà fino a meno 14 gradi. Infatti, proprio domani è previsto un deciso peggioramento.